Era stata aperta il 24 novembre scorso e con venerdì 22 gennaio cessa il suo servizio con la dimissione dell'ultimo paziente. Così la bolla Covid che fu deciso di aprire all'ospedale di Barga per far fronte all'emergenza ospedaliera legata all'aumento dei casi di Covid-19 su tutto il territorio dell'azienda sanitaria. La decisione di chiudere la struttura è stata assunta dal direttore dei presidi ospedalieri di Lucca e Valle del Serchio, Michela Maielli in accordo con la direzione aziendale, considerati l'incremento della richiesta di posti letto per pazienti no Covid e l'attuale sostanziale stabilità dei ricoveri dei pazienti affetti da coronavirus e vista anche la disponibilità della nuova area dedicata attivata nella cittadella della salute Campo di Marte a Lucca. L'ospedale di Barga tornerà quindi alla sua conformazione originale. A partire da domenica 24 gennaio, subito dopo le operazioni di sanificazione già predisposte, saranno nuovamente operativi 70 posti letto no Covid, 30 letti, 20 codici 56 e 10 ex articolo 26 di riabilitazione al terzo piano e 40 letti di medicina al secondo piano. Aperta, come detto il 24 novembre scorso, la bolla Covid dell'ospedale San Francesco ospitava 10 posti letto per le cure intermedie e riabilitative e 10 dedicati ai pazienti Covid ordinari, il tutto gestito dal personale dei reparti di riabilitazione e di medicina. A commentare il ritorno alla normalità per l'ospedale di Barga è stata la direttrice generale dell'azienda sanitaria, Maria Letizia Casani, che ha sottolineato il fatto che la realizzazione a Barga di queste due strutture Covid ha permesso di superare un momento delicato. La Casani ha ringraziato il personale coinvolto, sia quello della medicina che quello della riabilitazione, per aver risposto con la consueta professionalità e disponibilità ad un delicato cambiamento organizzativo e per aver gestito in maniera adeguata in questi due mesi anche i pazienti Covid.